E salve a tutti ragazzi, oggi in questo nuovo video andremo a parlare di questo trailer che è uscito ieri e diciamo che in questo trailer si parla di titolo Le Quinte, insomma di come hanno creato le armi e di come hanno portato queste armi all'interno del gioco diciamo che all'inizio vediamo delle cose che già abbiamo visto in altri trailer però poi successivamente vediamo tanti nuovi accessori tipo nuove armi si vede anche per un attimo tipo un cavallo, un nuovo veicolo, insomma c'è tanta roba da di quindi partiamo subito potete vedere all'inizio diciamo il riassunto di quei trailer che già sono usciti però poi successivamente in questo filmato qui possiamo vedere una nuova arma che poi è quella che abbiamo visto in un taser che è uscito qualche tempo fa e come potete vedere c'è anche scritto tipo suppressor che sarebbe tipo silenziatore in inglese quindi forse vedremo qualcosa di nuovo anche in questo senso qui possiamo vedere anche di nuovo la Lewis Gun che già abbiamo visto questa è un'altra arma che già abbiamo visto comunque ci fanno vedere appunto tutti dietro Le Quinte di come hanno sviluppato le cose e qui in questo filmato qui vediamo un nuovo veicolo che è questa G-Pods armata sicuramente sarà tipo tra i quattro posti però diciamo che solo uno avrà la mitragliatrice e un altro guida quindi gli altri due non lo so che faranno in questo filmato qui vediamo tipo l'artiglieria e come potete vedere sembra veramente molto molto figa però bisogna capire se è qualcosa di equipaggiabile dal personaggio o se si trova diciamo sulla mappa qui vediamo un fucile a pomba semi-automatico eh cristo santo io stai armi le odio so troppo OP veramente cioè non basta un fucile a pomba che già è forte su le distanze brevi figuriamoci uno semi-automatico qui più avanti vabbè sembra roba che già abbiamo visto però più avanti arriva il bello arriva veramente il bello eh vabbè qui questa sembra essere comunque già una versione più rifinita rispetto alla colosetta alfa quindi molto probabilmente è qualcosa che riguarda la beta o il gioco finale qui come potete vedere c'è tipo questo fucile di precisione che sembra essere quello del trailer quello lì anticarro e come potete vedere c'è questa cassa eh in cui diciamo è adagiato questo fucile quindi molto probabilmente lo vedremo come accessorio da prendere qui in questo piccolo filmato vediamo tipo il cavallo e quindi sì confermato ci stanno i cavalli eh ancora non sappiamo niente di ufficiale però già che ce l'hanno fatto vedere per un millisecondo già è una cosa buona eh in quel piccolo filmato vediamo in basso a destra che il nostro personaggio aveva equipaggiato tipo la dinamite quindi tante conferme tante cose che dobbiamo ancora scoprire per bene diciamo che ci hanno solamente dato un'idea di quello che sarà il gioco sia con l'alpha sia con questo trailer e non vedo l'ora raga veramente eh tra l'altro ci sarà un evento del 16 eh per la gamescom ovviamente sarò qui per parlarvi di tutte le novità che ci saranno sicuramente verrà annunciata anche la data della beta e niente questo è tutto ragazzi ci vediamo alla prossima e ciao 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 ciao